Una tenerissima poesia del poeta Gennaro Sansone, l'artista. O ponte di Casanovo, o quarta piana, a porta a noi c'è steva in Gennarina. Noi è che artista, semplice, alla mano, era stata cantante e concertina. L'era rimasta ancora o poche voce, e ha nostalgia per chi li tiene un po' bello. Teneva belli modi con il cuore dolce, e c'è cantava tante canzoncelle. Asceva fuori con una chitarrella, c'è faceva sette mesi in scala. L'ultima rampa, tutta è creatorella, come un teatro, rindo palcriato. A noi piaceva, io stevamo a sentì. Essa attaccava con un filo di voce, il rovo, sua sola miglia, Maria Maria. Quanta ricorda in sti momento dolce. Pugna e canzone, po', c'è stevamo a bissa. A gran richiesta, e con un pizzo a risa, Essa faceva un repertorio fissa, e a noi pareva questa giampa ravissa. Nasì le mesi in scala, e noi incantate, tutti in silenzio, E essa, mano a mano, cantava una canzone apprezzanata. E poi finale, inchino e battimane. Ottimo.